Salve a tutti amici, vi mostro una scorciatoia da tastiera, quindi un trucco per Windows 8 e 8.1, se così si può dire, per avere accesso a numerose funzionalità molto molto utili che spesso cerchiamo ma dobbiamo perdere tempo a richiamarle. Per esempio, tante volte noi andiamo a disinstallare dei programmi, allora dobbiamo andare sulla colonna di destra, dobbiamo cliccare su impostazioni, dobbiamo andare nel pannello di controllo, dobbiamo cliccare su programmi e funzionalità per poi disinstallare. Oppure anche solo per spegnere il computer, dobbiamo andare qua, dobbiamo fare impostazioni, dobbiamo cliccare su arresta, eccetera, eccetera. Ebbene, fortunatamente Windows 8 e 8.1 hanno una scorciatoia per far apparire un menu con tutte queste funzioni incluse in una sola finestra. Quali sono i due tasti da tastiera? Sono il tasto Win e il tasto X. Il tasto Win, il logo di Windows, è quello che sta tra il CTRL e l'alt di sinistra della tastiera, quindi premiamo contemporaneamente logo di Windows e tasto X per far apparire questo menu. Ed ecco cosa abbiamo. Innanzitutto ecco programmi e funzionalità, quindi senza stare a richiamare la colonna di destra, un solo clic. Opzioni spegnimento, visualizzatore di eventi, sistema, gestione dispositivi, ottimo per i driver, quindi per andare a richiamare quella finestra, senza stare a cercare il pannello di controllo, sistema, gestione dispositivi, eccetera. Connessioni di rete, gestione disco per il partizionamento, gestione computer, il prompt dei comandi che ci viene anche in una comoda voce da prompt dei comandi, amministratore, sapete che per molte cose serve l'amministratore, quindi invece di stare a fare CMD, tasto destro, esegui come amministratore, ce l'abbiamo già qua pronto. Gestione attività, pannello di controllo, esplora file, cerchi, esegui, chiudi o disconnetti, ed ecco che qua abbiamo le funzionalità di spegnimento, quindi esci, sospendi, ibernazione, arresta e riavvia. Insomma una volta memorizzato questa scorciatoia è possibile eseguire molte operazioni molto più velocemente. Spero di essere stato utile a qualcuno, un saluto a tutti.